Ciao a tutti ragazzi sono XMetacross405 e in questo video volevo parlarvi delle ultime novità di X e Y perchè appunto come ben sappiamo domani uscirà appunto il gioco quindi diciamo nelle ultime ore stanno davvero arrivando tantissime notizie riguardanti i due giochi e io volevo principalmente concentrarmi su 4 nuove notizie, anzi 5 ci sono state delle mega evoluzioni nuove tra cui quella di Mega Pinsir, guardate che figata e Mega Binate, mamma mia, davvero un design bellissimo, Pinsir mi piace un botto Mega Pinsir avrà l'abilità E-Relate che ha sempre avuto e questa volta però con appunto la pietra che permette a Pinsir di farlo mega evolvere si trasformerà in volante normale no soltanto in volante scusate volante con le ottero penso poi abbiamo Mega Binate che avrà l'abilità Prankster che ora non so cosa sia e sarà sempre di tipo Ghost ma è vero tipo Spettro è vero anche per lui è stato disegnato molto bene ha aggiunto in particolare queste zanne viola e delle gambe se non erro si sono delle gambe, queste sono zanne davvero fatto molto bene sembrano anche delle bocche, guardate con delle lingue davvero bellissimo invece Pinsir sembra che le sue appunto corna siano più forti e ho appunto le ali che questa qui è la caratteristica principale della sua mega evoluzione e dietro se non erro una sottospecie di scudo intanto logga la gente su Skip Skype, lo so ragazzi che si pronuncia Skype e adesso andiamo a vedere le altre mega evoluzioni qui abbiamo Mega Gengar ragazzi guardate quanto è bello mamma mia, la mia mega evoluzione preferita per il momento ha questa sottospecie di non so cosa sia bene ma sembra tipo un amuleto giallo che appunto gli conferisce dei poteri speciali e vediamo che è molto più appuntito cioè ha molte più punte e poi le braccia guardate qui sono diciamo molto più fighe intanto c'è Bynit che ci chiama e bro stavo registrando e appunto ha l'abilità Shadow Tag ovvero Furtivombra no Furtivombra è una mossa scusate questa abilità permette appunto all'emico di non scappare se non erro appunto le sue statistiche saranno molto più elevate si muove con la Gengarite e se non sbaglio da quel capisco potrà imparare Destino Obbligato e Ultimo Canto che sono due mosse devastanti nel battling ora passiamo alle ultime due mega evoluzioni che intendo mostrarvi ovvero Mega Cardevoir che appunto diciamo ha questo vestito molto più grosso e ha questa cosa viola sinceramente non mi piace molto perché appunto Cardevoir non è mai stato un pokemon che mi sia piaciuto cioè che mi che mi è piaciuto appunto e niente da dire non ho particolari informazioni su di lui e infine passiamo a lui Mega Geridos è davvero una figata ragazzi questa immagine si vede un po' di merda però dovete è l'unica che sono riuscito a trovare in pratica si è sempre un Geridos però guardate qui ha queste sottospecie di branchie più alzate e poi questi cosi rossi e qui mi se non so sbaglio ha un colore d'oro davvero veramente disegnato in un modo benissimo quelli della Game Freak mi stanno diciamo facendo ricredere su questo gioco che a mio parere sta diventando davvero bello e probabilmente questa cosa non c'è scritta ma Geridos assumerà il tipo drago quindi ragazzi il video in 3 è finito qui perché volevo parlarvi principalmente di queste nuove mega evoluzioni qui abbiamo il Mega Charizard X che è una figata assurda appunto di tipo drago volante assumerà il tipo drago mentre il Mega Charizard Y non capisco perché sia stato fatto così cioè è molto simile al Charizard normale soltanto che appunto ha le ali le corna e ha un'abilità diversa però penso che un po' tutti preferiamo il Charizard X poi ovviamente abbiamo sempre Mega Mewtwo Mega Mewtwo Y e X Venusaur, Ampharos Mobile Blaziken e gli altri Garchomp che è davvero una bestia guardate qua aumenta di molto l'attacco che è l'attacco speciale però la velocità diminuisce leggermente però è davvero una belva una belva guardate quanto è bello ha appunto queste due asce al posto delle mani e qui appunto lo vediamo fronteggiare Mewtwo e niente nulla da dire poi le altre cose storia regione non è che mi interessano particolarmente i nuovi ci sono nuovi pokemon che però nella pagina qui ancora devono si aggiornare ancora devono inserirli tipo sono uscite delle evoluzioni tipo di Clowncher di Sclerpo l'evoluzione di Sclerpo è davvero bella cioè rispetto a Sclerpo che fa letteralmente cagare cioè sembra che stia dicendo uccidetemi guardatelo l'evoluzione è davvero fatta bene di questi qui che ce l'ho scritto qua mi piace particolarmente l'evoluzione di di Pangoro se non sbaglio si si Pangoro Pangoro questo qui è molto bello e poi infine abbiamo il Team Flare che sarebbe una superficie di nuovo team che appunto sta terrorizzando la regione di Kalos perché Kalos è la nuova regione abbiamo i scienziati e qui i 5 generali 4 scusate sono 4 ragazze anche se 2 sembrano 2 maschioni questo qui è un generale dovrebbe essere Xante non so chi sia Xante è il quinto elemento ok sono 4 ragazze e un uomo sono 5 generali queste qui sono delle immagini guardate quanto è brutto cioè taglie quindi ragazzi il video è finito qui domani uscirà l'attesissimo gioco probabilmente caricherò questo video quando già sarà uscito e nulla votate commentate iscrivetevi e passate dal canale di Vineet che ci ha interrotto mentre stiamo spiegando e ciao a tutti ciao a tutti